E' vostra nonna. Resterete con lei finché la guerra non sarà finita. Aprite la bocca. Perché? Aprite la bocca! Siate forti, figli miei. Dovete sopravvivere. Io tornerò a prendervi. La guerra durerà ancora molto. Dovranno lavorare anche loro. In questa casa non si mangia gratis. Continuate a studiare. Qualsiasi cosa accada non smettete. Studiate, figli miei. Studiate. Siate coraggiosi, vi scriverò. Mamma! Mamma, non veni andati! Mamma! Andate! Vent'anni. Non si è fatta viva neanche una volta. 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 Grazie a tutti